L'importo complessivo di oltre 13 milioni e mezzo di euro prendono in considerazione ben 12 comuni della nostra provincia che benedico tutte sono Alessandre della Rocca, Vivona, Burgio, Calamonaci, Cattolica Ereplea, Cianciana, Lucca Sicula, Montalegro, Ribera, San Viaggio Plateno, Santo Stefano Piscina e Villa Franca Sicula. Naturalmente è stato fondamentale il supporto che ha dato l'ufficio tecnico nostro con le progettazioni, con tirare le fila per tutti questi 12 comuni del nostro territorio. In primis ho il piacere di ringraziare l'ingegnere di Michelangelo perché si è il dirigente tecnico di Michelangelo di Calu, che è il dirigente tecnico protetto e tutto il suo staff.